Allora Valentina, come tu sai bene, essendo un habitué di fregene, le spiagge sono state prese d'assalto per la prima volta quest'estate nel fine settimana appena trascorso e come ogni anno si ripropone il tema dei venditori abusivi. A Varazze, in provincia di Savona, hanno avuto un'idea originale. Leggiamo insieme il titolo della stampa, eccolo qua, in spiaggia vigilantes nordafricani contro l'abusivismo. Allora andiamo subito a Varazze dove c'è per noi Claudia Antinoro. Claudia, eccoti, ti vediamo con i bagnanti già in spiaggia. Sì, arrivati questa mattina molto presto. Dunque noi vi spieghiamo cosa è successo qui a Varazze. Tre ragazzi, due senegalesi e un marocchino che lavorano per una società di sorveglianza di Savona. In accordo con il comune, quest'estate controlleranno la spiaggia di Varazze per contrastare l'abusivismo, la vendita di merce contraffatta. Questo servizio, appunto finanziato dai fondi arrivati appunto dal Ministero dell'Interno per il progetto spiagge sicure, al comune di Varazze sono stati assegnati 42 mila euro. Di questi 42 mila euro, 7 mila circa, sono stati utilizzati appunto per assumere questi a tempo determinato, questi vigilantes che ora esterni, privati, che ora vi presento. Sono Ardo Gallo e Mohamed. Volevo chiedervi esattamente qual è il vostro compito? Voi cosa fate qui in spiaggia? Diventi piccola piccola. Sono molto alti, sono alti quasi due metri. Allora, buongiorno a tutti. Noi siamo a Varazze, facciamo un lavoro sulla spiaggia e noi siamo due, tutte le sabato e domenica. Allora, cerchiamo di allontanare le persone che vengono qua per vendere dei merci abusivi e poi solo questo, è un lavoro veramente molto semplice. Le posso chiedere una cosa? Niente. No, volevo chiedere, Claudia, perdonami, volevo chiedere qual è la reazione dei venditori abusivi che lei per lavoro, perché è la sua professione, è costretto ad allontanare. Cosa le dicono? Me lo dica fuori dai denti e non sia diplomatico. Allora, adesso non c'è ancora nessuno che è complicato le cose, sono veramente tutti corretti, non lo so, davanti si... Cioè fino ad ora non è mai capitato che qualcuno non si allontanasse vedendovi? Adesso no, veramente adesso no, adesso sono tutti corretti, adesso sono tutti corretti. Tutti corretti? Sì, sì, sì. Quando non si allontanano, voi qual è il vostro compito? Cosa fate? Quando non si allontanano, cerchiamo di spiegare, perché almeno parliamo la stessa lingua, quindi la comunicazione è più facile. Se insistono che non vogliono andarsene, cerchiamo di minacciare, chiamiamo i vigili. Di solito, prima di arrivare a queste estremità, se ne vanno. E allora, buon lavoro ai nostri vigilantes. Io volevo, avevo una curiosità, ma quanto sono alti, scusate? Perché Claudia è una ragazza bella alta, per cui... Quanto sono alti? No, scusami, devo capire. Quanto siete alti esattamente? Io sono alto 1,96. Ah, ecco, ah, eh. Io sono 1,82. Eh, anche qualcosina di più, non si tiri giù, anche qualcosina di più di 1,82. Va bene. Claudia, grazie, scusami. Allora, Claudia lo ricordava, l'iniziativa rientra nell'operazione Spiagge Sicure, una direttiva del Viminale alle prefetture di tutta Italia. Allora, con noi abbiamo Cinzia Torrago, prefetto di Grosseto. Buongiorno, dottoressa, grazie per essere venuta una mattina. Buongiorno a voi. Allora, ci racconta bene, ci spiega di cosa si tratta. Spiagge Sicure è un'iniziativa voluta dal ministro Salvini, nell'estate del 2018, per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale e della contraffazione. Un obiettivo istituzionale, peraltro, già perseguito dalle forze dell'ordine da tempo, ma la novità sta nel fatto che il ministro ha voluto coinvolgere in maniera diretta sindaci e polizie locali dei piccoli comuni, dei litorani balneari. Parliamo quindi di sicurezza urbana, parliamo di decoro, di vivibilità delle città turistico balneari e prevenire e contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale e della contraffazione significa anche elevare la percezione della sicurezza. Allora, il nostro Maurizio Mici ha trascorso la mattinata di domenica in una spiaggia che il prefetto conosce bene, la Giannella, no? Comune di Orbetello. Eh, certo. Anche lei va lì a prendere il sole, il prefetto. Certo. Ah, perfetto. Vediamo il servizio. Per il Comune di Orbetello, spiagge sicure, è riportare la regalità sulla spiaggia. Abbiamo proceduto all'acquisto di 50 cartelli che stiamo posizionando sulle vie d'accesso delle spiagge, dei litorali sabbiosi. L'altra forma di attività è quella del pattugliamento sulla spiaggia. Fino adesso sono stati sequestrati 850 cezzi di materiale vario, indumenti, bigiotteria, cesti invimini e quant'altro. Il cittadino normale che acquista rischia una contravenzione, una sanzione fino a 7.000 euro, proprio per l'acquisto della merce da persone che non sono autorizzate. Il commercio alimenta la criminalità organizzata, danneggia il commercio delle persone legittimate a farlo. Sono molto d'accordo con questo discorso che il Comune sta facendo, perché se no è diventata troppo un'ossessione venire al mare. Penso che sia un'ottima iniziativa, uno perché non sempre tutti sanno quello che c'è dietro a chi vende tutti questi tipi di oggetti, quindi è anche una questione di sicurezza, soprattutto anche perché non si sa la provenienza. Hanno fame, non hanno venduto niente, dall'altra parte noi ci dispiace però non è giusto. Tutta merce contraffatta e giustamente non va bene. La nostra non è una caccia indiscriminata contro chi esercita il commercio sulle spiagge, ma solo contro quelli che lo esercitano in maniera illegittima. Tanto è che l'amministrazione comunale di Orbetello rilascia autorizzazioni a chi esercita il commercio, ma a persone che sono legittimate a farlo. L'idea è anche quella di rilasciare una pettorina alle persone legittimate, in modo che chi è sulla spiaggia possa tranquillamente individuare i soggetti legittimati rispetto a quelli che lo esercitano in maniera illegittima. Allora, prefetto, possiamo spiegare o capire quali sono gli illeciti che in spiaggia sono più diffusi? Sicuramente la contraffazione, la ricettazione, il commercio abusivo non autorizzato, le violazioni anche di norme sanitarie. Questi sicuramente sono gli illeciti più frequenti che si possono vedere sulla spiaggia. Però, diciamo, la cosa importante che va messa in evidenza è che, al di là dell'aspetto repressivo, l'operazione spiaggia sicura vuole e soprattutto mira a rendere più consapevoli i cittadini dei rischi che possono derivare dall'acquisto di merce contraffatta. Allora, però, volevo dire a quelli che sono a casa e comprano dagli abusivi nelle spiagge, ragazzi, lo fate a vostro rischio e pericolo perché sono previste delle multe, non solo per chi vende, eccetera, eccetera, ma anche per chi compra, è così, perfetto. Vogliamo dire di quanto si tratta, quantifichiamo. Assolutamente. Il cittadino non sempre sa che acquistare merce contraffatta, ma anche merce da un venditore ambulante non autorizzato, commette un illecito, un illecito amministrativo che viene sanzionato con una sanzione da zero, da 100 a 7 mila euro. Ad essere, quindi, sanzionato è l'acquirente. Però qui bisogna fare anche un distinguo perché se l'acquisto della merce contraffatta è per un uso screttamente personale, allora c'è la sanzione amministrativa. Diversamente, se io acquisto ma cedo questa merce contraffatta a terzi, parliamo di riciclaggio, di ricettazione. Di ricettazione, ovviamente regole che valgono mare, lago... Per tutti. Adesso che hai sentito parlare il prefetto di Grosseto, secondo me da Fregene passerai a Follonica. O all'isola del Giglio, va bene. Spiaggia e meravigliose. Comincia da Follonica, poi giri, poste stupende. Grazie, grazie al prefetto, grazie a Claudio Antinoro da Varazzo.